Una potente, secondo quanto riportato dall'Intelligence della difesa dell'Ucraina, la Russia ha dispiegato ben 46 lanciatori del sistema missilistico Iskander lungo il confine con l'Ucraina. Questo paese aggressore utilizza tali lanciatori per colpire con missili balistici e da crociera, mettendo in pericolo le infrastrutture civili ucraine. Attualmente, l'esercito russo ha schierato lungo il confine statale dell'Ucraina ben 46 lanciatori del sistema missilistico-balistico a breve raggio Iskander, utilizzati sia per lanciare missili balistici che missili da crociera R-500, notti come l'Iskander-K. Questa informazione è stata resa nota da un rappresentante dell'Intelligence della difesa del Ministero della difesa dell'Ucraina, Vadim Skibitsky, durante l'annuale incontro della Yalta European Strategy S. Skibitsky ha sottolineato che lì in questo modo, cioè utilizzando i complessi Iskander, si sta compiendo una distruzione metodica, prima di tutto, degli oggetti civili del nostro Stato. D'altra parte, Defense Express vorrebbe sottolineare che questa è la prima volta, durante la guerra su larga scala della Russia contro l'Ucraina, che si ha conoscenza del numero di lanciatori del sistema missilistico Iskander concentrati contro il nostro paese. E questo dato va analizzato attentamente. Da una parte, il rapporto dei military balance 2023 indica che all'inizio dell'anno in corso, l'esercito russo disponeva di un totale di 150 lanciatori per il sistema Iskander. Tuttavia, questo rappresentava un insieme incompleto per tutte e 14 le brigade missilistiche esistenti, ciascuna delle quali doveva avere 16 lanciatori Iskander, quindi 208 lanciatori per 13 brigade e 226 lanciatori per 14 brigade. D'altra parte, i 46 lanciatori schierati rappresentano in sostanza l'equivalente incompleto di soltanto tre brigade missilistiche. Ma bisogna considerare che, secondo l'intelligence della difesa dell'Ucraina, alla fine di agosto 2023, la Russia aveva ben 270 missili balistici e da crociera in magazzino per il sistema missilistico balistico a breve raggio Iskander, con piani di produzione di 30 missili balistici e 12 missili da crociera sempre per il sistema Iskander nello stesso mese di agosto. A titolo di confronto, all'inizio di gennaio 2023, la Russia aveva solo 144 missili balistici e da crociera per i sistemi Iskander. Questo fa supporre che probabilmente, in questo inverno, gli occupanti utilizzeranno in modo più aggressivo i sistemi Iskander per attaccare le infrastrutture energetiche e i civili dell'Ucraina. È una situazione che richiede una stretta attenzione da parte della comunità internazionale e che continueremo a monitorare da vicino. Grazie per averci seguito, e restate connessi per ulteriori sviluppi su questa importante notizia. Recentemente, sono emerse nuove fotografie sul web che mostrano come i russi stiano lavorando su nuove soluzioni tecnologiche per proteggere la loro aviazione tattica dai droni ucraini. In questo caso, si tratta di un improvvisato hangar leggero realizzato con una struttura metallica coperta da una rete metallica. L'idea potrebbe essere che i droni ostili si impigliano nella rete in modo simile a quanto fanno gli ucraini con i droni lancet russi che attaccano posizioni di artiglieria. Oppure questa struttura potrebbe servire a proteggere gli aeromobili dei frammenti che cadono dopo l'esplosione dei droni suicidi nemici. Un dettaglio interessante è che hanno utilizzato un Su-27 dismesso per dimostrare la loro nuova invenzione. Ciò potrebbe indicare che questo metodo di protezione è ancora in fase sperimentale e potrebbe subire ulteriori modifiche. Va notato che questa forma di protezione sembra essere una scelta più efficace rispetto a coprire gli aeromobili con pneumatici per nascondere le loro firme termiche e renderli invisibili tra i sensori termici dei droni. In passato, questa insolita forma di protezione era stata vista su aeromobili strategici e persino su bombardieri tattici Su-34. Tuttavia, è importante sottolineare che questa copertura di pneumatici non può nascondere l'aviazione tattica o strategica dalle tecniche di ricognizione, dai sistemi di guida missilistica occidentali o dalle esplosioni dei droni d'attacco, ma può solo aumentare il tempo necessario per preparare gli aeromobili per un'uscita. Inoltre, all'inizio di agosto di quest'anno, i media russi avevano già rivelato la costruzione di strutture simili per gli aeromobili Su-34 stazionati presso la base aerea Baltimore a Voronez. Tuttavia, in quel caso erano stati costruiti solo quattro hangarfi improvvisati e non c'erano reti o coperture per proteggere dagli schegge. In precedenza, Defense Express aveva riferito che i russi avevano recentemente ammesso de facto che un singolo Tu-141 Stritz era riuscito a danneggiare tre bombardieri strategici Tu-22M3 e un missile Kh-32 durante un attacco avvenuto nel dicembre 2022. Dmitry Medvedev, il presidente del Consiglio di Sicurezza della Russia e alleato del presidente russo Vladimir Putin, ha avanzato una minaccia inquietante nei confronti degli Stati Uniti, a pochi giorni dal 22esimo anniversario degli attacchi terroristici del 11 settembre 2001. Medvedev, noto per le sue posizioni propagandistiche in seno al Cremlino e già presidente della Russia dal 2008 al 2012 e primo ministro dal 2012 al 2020, ha da tempo espresso commenti ostili nei confronti degli Stati Uniti, specialmente negli ultimi 18 mesi, mentre gli Stati Uniti hanno fornito un sostegno significativo all'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa. In diverse occasioni, Medvedev ha fatto riferimento al rischio di una terza guerra mondiale e ha possibili attacchi con armi nucleari come risposta alle posizioni ostili degli Stati Uniti nei confronti degli interessi russi. La domenica scorsa, ha pubblicato un post sul suo account ufficiale Telegram, definendolo alcune parole alla vigilia del 11 settembre. In questo post, ha criticato gli Stati Uniti per quella che ha definito «arroganza e disgustoso narcisismo tra le nazioni occidentali e la loro «arroganza universale»» su ogni questione. Alla fine del post, ha anche fatto una previsione inquietante, affermando che gli Stati Uniti sarebbero stati oggetto di «un altro attacco simile all» 11 settembre 2001, ma con un componente nucleare o biologico, senza tuttavia suggerire apertamente che la Russia sarebbe stata la nazione a lanciare l'attacco». Una traduzione dell'ampio post è stata condivisa su X, la piattaforma precedentemente conosciuta come Twitter, da Anton Geraschenko, consigliere del ministro degli affari interni dell'Ucraina. «Nel mio intento non c'è preveggenza, ma gli Stati Uniti vedranno che prima o poi i terroristi lanceranno un altro attacco simile all» 11 settembre 2001, ma con un componente nucleare o biologico, ha scritto Medvedev, come tradotto da Geraschenko. O addirittura peggio, uno dei leader di paesi nucleari perderà la calma e prenderà una decisione emotiva di usare le armi di distruzione di massa. Specialmente considerando che il club nucleare è in costante espansione e una parte significativa di esso non è vincolata ad alcun obbligo. Ha proseguito, e allora sarebbe finita. Fine della partita. Non rimarrebbe che raccogliere fondi per un nuovo monumento nei pressi di Ground Zero. Nel migliore dei casi. Newsweek ha contattato via e-mail esperti di difesa stranieri per commenti. Il mese scorso, durante un'intervista all'agenzia di stampa russa TASS, Medvedev ha fatto dichiarazioni simili, suggerendo che gli Stati Uniti e altre nazioni occidentali stavano avvicinando il mondo a una terza guerra mondiale. In tutta sincerità, sarebbe stato sicuramente meglio se avessero ascoltato quei segnali, ha affermato Medvedev. In ogni caso, il mondo non avrebbe dovuto affrontare la minaccia di una terza guerra mondiale. In effetti, è proprio lì che i nostri avversari stanno spingendo tutti.